ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale mario dedo oggi siamo qui per trovare i forzieri della repubblica vi farò vedere tre punti dove trovare il forziere e il fucile d'assalto dc 15 allora andiamo a vedere il primo punto è già indicato sulla mappa è vicino a distese deliranti si vedono già le due capanelle dobbiamo solamente vedere il punto poi non è importante l'avversario adesso ok questo è il portiere e questo è il fucile ragazzi già stanno sparando ok ragazzi abbiamo l'accelo così non si danno fastidio ok ragazzi il secondo punto dove poter trovare il fucile è qui un po più su di lastre lucide proviamo ad andarci eccolo lì ragazzi il secondo punto che vi farò vedere oggi per il fucile ve l'ho indicato anche sulla mappa anche qui il forzieri della repubblica e il nuovo fucile blaster dc 15 ok già è stato preso da qualcuno naturalmente possiamo anche farcelo dare dal soldato eventualmente ma a noi non serve l'abbiamo già preso ok dobbiamo vedere l'ultimo punto dove trovare il fucile ve lo indico sulla mappa siamo anche in safe dovremmo farcela eccoci qui ragazzi l'ultimo punto dove poter trovare il fucile quindi vi ho mostrato tutti e tre i punti anche qui già è stato preso però il punto per prenderlo era questo qua è la peggio delle ipotesi parlare con il soldato e vi fate dare il fucile oh non stanno fanno ragazzi ok ragazzi intanto concludo questa partita e eventualmente ci vediamo al prossimo episodio isions a a no a 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 Grazie a tutti.